Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo dello zainetto da trail running Salomon Active Skin 8-7. Un nome veramente lungo, che però sa significare uno zaino pensato per i principianti, che ha un prezzo molto contenuto. Vi spoilerò già, è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma vi ho già detto troppo, iniziamo con la recensione. Parto col descrivervi questo zaino da trail running come solito dal suo peso. Questo zaino viene fornito con due soft flasche da 500 ml, ognuna sempre di Salomon, e compreso le soft flasche pesa 300 grammi. È uno zaino, come dicevamo, da 8 litri, composto da una singola tasca, che è questa qua posteriore. La tasca si apre dalla parte superiore fino alla parte inferiore, ma non fa la mezzaluna, quindi si apre solamente su un lato. L'ho apprezzato anche se non al massimo. Preferisco quelli che si aprono nella parte alta, perché aprendosi nella parte alta riesco, come dire, a infilare tanti oggetti nella parte bassa, anche a incastrarli. E se faccio la stessa cosa con questo zaino, nel momento in cui vado ad aprirlo, questi tendono a saltare fuori. All'interno troviamo inoltre una piccola taschina nella parte superiore, con la possibilità di agganciare le chiavi, per esempio per metterci le chiavi da macchina, le chiavi di casa quando usciamo. Una semplice taschina. Un aspetto che mi ha convinto particolarmente è inoltre questa rete posteriore. Sia perché possiamo andare ad apprenderci fuori una giacca impermeabile, se magari è un punto della gara in cui piove, non piove. Sia l'aspetto che mi è piaciuto di più è che noi andandola a tirare, possiamo andare a ridurre la grandezza della parte posteriore dello zaino, e quindi a renderlo magari uno zaino da 5-6 litri. E questo ci dà modo di poter utilizzare lo zaino anche in trail decisamente più corti. Detto ciò, sulla parte posteriore non troviamo più nulla, è uno zaino abbastanza minimal. Mentre passiamo alla parte davanti, vi informo che qua sopra abbiamo la classica apertura, dove andare a infilare la sacca idrica, un litro e mezzo massimo, con la possibilità di poter andare sia a chiuderla con un piccolo sistema di un gancetto, sia la possibilità di far uscire la nostra proboscide della sacca idrica e farla arrivare sul davanti. E visto che ci siamo, parliamo della parte anteriore. Parte anteriore che è asimmetrica. Cosa intendo dire? Che sulla parte destra troviamo innanzitutto la possibilità di inserire la prima soft flasca, e poi una singola tasca, però molto molto grossa. Davvero, in questa sasca ci stanno fino a dieci oggetti, cioè cinque barrette e cinque gel, cioè davvero ci possiamo portare dietro tantissimo materiale. E mi è piaciuta perché, essendo anche molto molto profonda, Salomon ha deciso di metterci a mezza altezza un'apertura per poter andare a prendere gli oggetti più in profondità, perché altrimenti prendendolo, diciamo, dal buco principale dove andare a inserire gli oggetti, ecco, quelli che vanno a finire in fondo sarebbero veramente complicati da prendere. Invece, essendoci questa apertura, diciamo, è stato studiato bene questo zaino, è stato ingegnerizzato bene. E questa è la tasca di destra. La tasca di sinistra presenta, innanzitutto, un fischietto, che anche questo molte volte fa parte del materiale obbligatorio, seconda soft flask, la medesima tasca, come la parte di destra, con la stessa apertura sul fondo della tasca, e poi presenta inoltre un'ulteriore taschina a zip dove poter andare a riporre lì dentro il nostro cellulare. Tenete conto che qua ci sta un cellulare di grosse dimensioni, cioè anche i cellulari da 7 pollici ci stanno senza grossi problemi, e possiamo andare ad aggiungere ulteriori materiali in questa taschina, anche se quella superiore è piena, io qua ci sono andato a mettere tranquillamente il mio telefono, più anche la videocamera con il quale poi ho registrato la gara della Valgrosina Trail, che è la gara dove ho avuto modo di provare questo zaino. A livello di funzionalità, diciamo che questo zaino è finito. Non abbiamo tantissime tasche, è uno zaino, come dicevo, molto minimal, che tende all'essenziale, ma l'essenziale è fatto molto bene, perché adesso l'altro punto in cui vi voglio parlare è la chiusura sulla parte anteriore. Questa viene effettuata con dei gancetti elastici davvero molto semplici e con un singolo sistema di tiraggio e di allacciatura. Questo sistema è talmente semplice che funziona bene, cioè non ha mille fronzoli. Noi lo andiamo ad agganciare, tiriamo e questo si serra. Noi possiamo correre anche a dei ritmi sostenuti, su terreni particolarmente accidentati, e grazie a questo sistema di allacciatura e naturalmente a tutto il resto dello zaino, questo resta fermo. Io non ho avuto davvero nessun problema di sobbalzamento dello zaino. Ho avuto qualche problema invece per quanto riguarda le soft flasche. Queste nella parte superiore hanno un piccolo gancetto che si può utilizzare per, come dire, cercare di tenerle ferme. Io sinceramente questi gancetti non li sopporto tanto, perché in gara sono uno che beve molto, quindi tendo a tirare fuori e rimettere dentro la soft flasche molte volte, non prendo l'acqua magari solo e ristori, ma anche qualche torrente che trovo in giro. E questo gancetto mi dà fastidio. Però ho cercato di utilizzarlo con questo gancetto e non mi ha convinto particolarmente, perché finché la borraccia, la nostra soft flasche, è piena, il gancetto svolge bene il suo lavoro. Nel momento in cui abbiamo la soft flasche mezza vuota, questo non svolge più il suo lavoro, anzi diventa l'intralcio, perché non riusciamo più a tirare fuori l'acqua. E la borraccia tende a scivolare all'indentro, questo non riesce a tenerla sollevata. Se devo essere propriamente sincero, secondo me potevano benissimo eliminare questo gancetto e magari fare la retina dove va all'interno la soft flasche un pochino più stretta per renderla più avvolgente e far sì che questa non cada. Però diciamo che sì, nel senso ci può stare, alla fine lo si utilizza senza troppi problemi. L'unica cosa che, come dicevo, se abbiamo la borraccia mezza vuota, nel momento in cui dobbiamo andare a bere, magari dobbiamo andare a cercare il beccuccio e tirarlo fuori per bere. Come vi dicevo prima, comunque in generale è uno zaino che sta molto fermo, è uno zaino col quale tutto il sistema di ingegnerizzazione lo rende davvero molto stabile e anche molto traspirante, perché per come è pensato, noi qui abbiamo due differenti membrane che vanno a sovrapporsi e che all'interno hanno un cuscinetto d'aria. Questo cuscinetto d'aria va a far traspirare davvero, davvero tanto questo zaino. Penso che questo sia uno degli zaini con la maggior traspirità che io abbia provato fino a questo momento. Che altro dire? Questo zaino, come avrete capito, a me è piaciuto e mi è piaciuto anche per il suo prezzo. Ufficialmente viene venduto da Salomon a 90 euro. Online lo si trova tranquillamente anche a 70, molte volte lo ha visto anche a 55 euro quando è particolarmente scontato. È uno zaino che io mi sento di consigliare sia a principianti che vogliono iniziare, quindi magari non vogliono spendere delle cifre assurde, sia a persone, diciamo, intermedie, persone metà classifica, ecco. E poi, come vi dicevo, è uno zaino che può andar bene per diverse distanze, perché con la possibilità di andare a ridurre il litraggio nella parte posteriore con l'accetto, possiamo utilizzarlo in gare anche da 20 km senza tanti problemi fino a arrivare a gare da ultra. Cioè l'ho utilizzato in una gara da 70 km senza nessun tipo di problema. Ho provato a inserirci all'interno anche il materiale che mi ero preparato per fare una 100 miglia e ci sta benissimo. Quindi, davvero, secondo me, come range, possiamo arrivare fino a una 100 miglia con questo zaino. Oltre non andrei, ma poi dipende sempre anche dal materiale obbligatorio che richiede ogni singola gara. Ci sono gare da 50 km che richiedono un materiale obbligatorio, come se dovessimo portarci dentro una valigia, e ci sono gare da 100 miglia che invece richiedono due cose appena, per il tipo di terreno e via dicendo. Quindi dipende un po' anche dal materiale obbligatorio che viene richiesto per ogni singola gara. Detto ciò, ragazzi, io nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!